Per noi è un progetto molto importante perché rientra proprio nella nostra caratteristica di servizio che vuole essere collegato alla comunità e dare un aiuto alle persone anziane che vivono i nostri paesi ma anche la nostra provincia. Questo progetto ci ha dato un'opportunità enorme di lavorare non solo sulla fatica e sull'assistenza ma proprio su quella che è la creatività, il collegamento con le persone anche all'esterno della valle, i volontari coinvolgendo gli anziani, le famiglie, i volontari e anche in parte il territorio proprio nelle attività che sono state realizzate nella casa. Alle mie spalle vedete queste opere, sono degli acquerelli bellissimi che sono proprio un'uscita di questo progetto. Ci sono stati anche degli aiuti molto più concreti che sono stati la possibilità di acquistare un'automobile che ci serve per consegnare i pasti agli anziani che vivono al domicilio e anche di riqualificare il campo sportivo. Questo per noi è stato un elemento molto molto importante perché ha fatto sì che potessimo restituire alla comunità di Montescheno un bene che era stato in parte deturpato con i lavori di ristrutturazione e ci consente di mantenere il collegamento tra le fasce d'età, le generazioni, gli anziani, i bambini, i ragazzi e anche con le attività che il paese di Montescheno svolge in importanti manifestazioni quali per esempio la Valbrevetto, la Sky Race che probabilmente nota tutte le persone della nostra zona. La parte poi invece più relazionale diciamo che abbiamo potuto finanziare grazie a questo contributo che è stato importante, è stato di 120 mila euro e per noi sono davvero molti soldi che abbiamo potuto investire proprio nel miglioramento della qualità della vita. sono stati un laboratorio di arte relazionale, un laboratorio di acquerello, dei gruppi di autoaiuto per le persone che si sentivano in un momento di fragilità, il sostegno psicologico individuale e l'attività motoria. Sono stati elementi tutti molto apprezzati e quello che a me ha fatto molto piacere è stato il fatto che sono stati realizzati assieme sia per gli anziani che vivono nella nostra casa ma con i loro familiari e questo ci ha aiutato a costruire fiducia tra noi operatori e le famiglie che credo sia l'elemento più importante proprio per stare bene, per far stare bene le persone che comunque devono affrontare la fatica di lasciare i propri cari in una struttura di alleggerire un pochino il senso di colpa e noi di fare apprezzare proprio il lato umano del nostro lavoro.